Buon Romeo nuovo, finita 46 a 6. Una partita senza storia. Vabbè, però sei punti li abbiamo fatti, dai, non è male. No, c'era di io che eravamo anche solo in cinque, quindi dopo un po' il fiato mancava. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, però più che altro è stato perché le ragazze, quelle più grandi e più allenate, sono andate in Erasmus due settimane fa. Quindi ci hanno un po' lasciato a noi stesse. L'obiettivo dell'intercollegiale non è solo quello di vincere le partite e dimostrare la propria forza sullo sport, ma soprattutto quello di valorizzare l'esperienza dei collegi e soprattutto permettere a chi sta in collegio di conoscere altre persone. Voi ci siete riuscite? No, sì, diciamo nei momenti in cui non siamo stravolte, sì, ma comunque è divertente. Cioè io l'ho trovata divertente questa esperienza, quindi direi positiva. Noi avevamo fatto un amichevole già con il nuovo, quindi già sapevamo come funse, esatto. Quindi sì, direi che il nuovo era quello che temevamo. Anche Santa Caterina è fortissima. Anche Santa Caterina abbiamo fatto l'amichevole. È del fortissima. Anche a tutti. Anche anche. Anche a tutti. Grazie a tutti.